Il 17 aprile al teatro ABC di Catania, il 22, il 23, il 24 al Neglia di Enna, il 26 al teatro al Massimo di Palermo e poi il 15, il 16 e il 17 maggio al Trifiletti di Milazzo. Queste le date delle tappe siciliane dello spettacolo di Roberto Lipari, E ho detto tutto. E ho detto tutto è l'espressione tipicamente utilizzata da chi vuole mettere un punto ad una discussione, ma è anche un modo per rafforzare ciò che si dice. E lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui Roberto Lipari esprime un inedito punto di vista sul mondo che ci circonda. E lo fa con la sua irresistibile comicità, che ormai è diventata un marchio di fabbrica. Il boom cinematografico di tutto a posto e su tutto di te e gli spettacoli sold out testimoniano il crescente successo del comico palermitano. Successo che l'artista ripaga proponendo al pubblico testi sempre nuovi e originali. Sì, lo spettacolo in realtà è nato a maggio, che era questo best off, e si chiamava infatti quello che dico, quello che dissi e quello che dirò. Perché dentro ho messo il mio meglio di, ma ho messo anche altre, delle robe che poi so. Poi quella roba magari l'ho fatta in tv, eccetera, allora ho avuto la necessità di aggiungere la roba nuova. Ma niente mi dice che tra qua e la data del 17 aprile a Catania, qualcosa di nuovo glielo metto dentro, perché così. Mi diverte anche perché quando fai tante volte uno spettacolo è bello metterci del pepe. Mamma, ma perché abbiamo castrato il cane? Dice perché i volevamo bene. Perché abbiamo castrato il gatto? Dice perché i volevamo bene. Poi una volta la madre dentro nella stanza dice lo sai che ti voglio bene, ma chi ti conosce? Ci siamo visti mai noi due.